Quattro rulli tutti seri, tre jackpot da 15.000 dollari, hai idea di quante siano le probabilità? Sicuro, deve essere una su un milione, forse di più. Tre cazzi di jackpot in 20 minuti soli? Perché non hai bloccato le macchine? Mi chiamavi? È successo così in fretta, tre hanno vinto, non ho fatto in tempo a chiamarla. Non hai visto la fregatura? Non hai visto che succedeva? Non c'è modo di prevederlo, Sam. Sì che c'è ed è infallibile anche, hanno vinto! Ma è un casino, la gente deve vincere qualche volta. Senti, Ward mi sto incazzando a morte, ora insulti la mia intelligenza, ma che credi? Che sia un coglione? Lo sai benissimo che qualcuno ci ha dovuto mettere le mani e sistemare quei maledetti rulli. Le probabilità su una macchina a quattro rulli sono di una su un milione e mezzo, su tre macchine di fila, di una su miliardi, non può succedere, non dovrebbe succedere. Deficiente, cazzone, ma che ti prende? Non hai capito che ti stavano fregando alla seconda vincita? Credo proprio che... Sì, non hai capito che ti stavano fregando alla seconda vincita? Credo proprio che lei stia esagerando in questa situazione. Senti bene, cafone, ne ho abbastanza di detti, ho parato il culo in questo posto da quando sono arrivato. Prendi le tue chiappe, le tue cose e sparisci. Mi sta licenziando? Ti sto licenziando, no, non ti sto licenziando, ti ho licenziato. Potrebbe pentirsene, signor Rothstein. Bene, pentirei di più se ti lasciassi continuare. Non si trattano così le persone. Se non hai capito che ti imbrogliavano sei troppo stupido per avere questo posto. Se l'hai capito eri d'accordo, in ogni caso sei fuori, battere. Coraggio, andiamo. Quel tizio è cancellato per quanto ti riguarda, cancellato. Ma non puoi licenziarlo, Webb è il suo cognato, è il commissario della Contea. E allora? Quelli con gli stivali da cowboy, qui sono tutti commissari della Contea o parenti di commissari della Contea. Non ho le palle piene, sai? La situazione è questa. Suo zio è un grosso giudice, il suo cognato è commissario della Contea. Non so quanti altri parenti abbia in città. Deve esserci un modo per riprenderlo a lavorare. Ti occupi di finanza, sei ai piani di sopra, ma non sei in sala giochi. Non vedi cosa succede, ho migliaia di giocatori, ho 500 croupier. Cercano tutti quanti di fregarmi come pazzi, 24 ore al giorno. Devo fargli sapere che osservo tutti i dettagli continuamente, e che non c'è una sola cosa che mi potrà sfuggire finché sarò qui. Guarda la tua. Cosa? Guarda che roba. Guarda, guarda qui, non c'è niente. Guarda quanti mirtilli sono nella tua pasta e quanti nella mia. La tua è strapiena, io non ho niente. Ma di che stai parlando? Come ogni cosa in questo posto, se non la fai da solo non la fa nessuno. Dove vai? Ora in poi metti la stessa quantità di mirtilli in ogni pasta. Devi mettere la stessa quantità di mirtilli in ogni pasta. Lo sa quanto ci vorrà? Non mi interessa quanto ci vorrà. Devi mettere la stessa quantità in ogni pasta. Ah, va.